Santini Maglificio Sportivo. Da 50 anni, il meglio dell'abbigliamento tecnico da ciclismo. Ti aspettiamo all'outlet di Lallio, in via provinciale 14, dove potrai trovare un'ampia gamma di capi tecnici per il ciclismo, il triathlon e il tempo libero per uomo, donna e bambino. Il nostro staff competente e preparato saprà aiutarti nella scelta dei capi più adatti alle tue esigenze. Santini. Made in Italy. Made with passion. Made in Italy. Made with passion.